alberto righetto alle prese con la ginnastica corpo libero presentazione nella sede di piazza davanti la chiesa di fosso dai muovete dai bel bambino muoviti mostraci come ti muovi prima veniamo a basso signore dai la faccia attiva di questo ragazzo cosa ci racconti che domenica andiamo in montagna ho mangiato la pizza che pizza hai mangiato magherita tu con le uova e dopo così fatto stasera stasera siamo andati all'open al move mic al fragile in centro a pisciare con 95 ottani andato a pisciare in centro no no con il motorino io l'ho fanno gli spenti fanno gli spenti e quindi saltrone ho detto anche stupido 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 devi fare e il bauco e dopo e chi è che ti ha squillato il telefono chi è è una figa fermo fermo sembri in una ambientazione isola hawai guarda con la palma non si vede che bisogna dargli a fuoco per questo eccola la palma più piccola non si vede l'ombra della palma l'uomo sotto la palma va bene grazie a tutti grazie a tutti